Orlando santo subito, santo subito, almeno per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Bene amici, finalmente una buona notizia. Dopo un tempo inenarrabile diventa finalmente operativo, ascoltatemi bene, il bonus aggiuntivo da ben 6 mensilità a favore dell'autoimprenditorialità. Tanti di voi lo attendevano, possiamo dirlo, da anni, ormai davvero da anni, e finalmente è arrivato. Io sono Mr. Lul, vi spiego tutto, sigla, ma mi raccomando un bel like per sostenere il video del canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! Insomma, in gazzetta, ufficialmente e finalmente, compare il decreto ministeriale che regolamenta appunto l'incentivo, il bonus per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo, imprese individuali o di società cooperativa per i percettori di reddito di cittadinanza. Un beneficio da massimo 4680 euro massimo, 780 per 6 mensilità. Ripeto, massimo e aggiuntivo. Quindi queste 6 mensilità aspettano oltre al sussidio normalmente percepito dal nucleo. Sono però 4 le condizioni per poterlo lecitamente richiedere. Primo, essere componente di un nucleo percettore di rdc, ovviamente. secondo, aver avviato entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito un'attività lavorativa autonoma oppure di impresa individuale o ancora aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa. E poi ancora, non aver cessato nei 12 mesi precedenti la richiesta del bonus, sempre un'attività lavorativa autonoma di impresa individuale o non aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una copp. Quarto punto e ultimo, nel nucleo non, non devono esserci componenti eventualmente già percettori del medesimo beneficio, del medesimo bonus. L'ammontare l'importo di questo importante sussidio, come dicevamo anche prima, è pari a massimo 6 volte l'importo dell'rdc spettante nel mese in cui viene avviata proprio l'attività autonoma per un massimo di 4.680 euro. Mi raccomando, la domanda deve essere presentata all'Inps tramite il nuovo modello COM esteso, che tra l'altro viene allegato proprio allo stesso decreto in gazzetta entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Comunicazione questa con il nuovo modello che va effettuata, anche se l'attività è già stata regolarmente avviata tempo fa e già comunicata all'Inps. Detto questo, fatemi sapere nei commenti se appunto eravate tra quelli che stavano ardentemente aspettando questo nuovo aiuto. Come sempre, mi raccomando, un bel like per sostenere il video e il canale, iscrivetevi con la campanella per non perdere tutti gli aggiornamenti come questo, ad esempio, e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Mr. Lull.